Il collettivo autonomo studentesco di Ravenna da ieri è nuovamente senza una sede. Con un dei portavoce abbiamo fatto il punto della situazione. Il giorno dopo siamo dovuti andare via e avevamo lasciato il posto a dispetto di quello che è uscito inizialmente sui giornali. Noi non avevamo lasciato spontaneamente il posto. Noi avevamo chiuso la chiave e pronti a tornare per il giorno dopo. Poi la polizia non ha trovato nessuno e ha sgomberato. Quindi adesso che cosa sta succedendo e che cosa succederà? Adesso siamo di nuovo per strada. Ancora gli studenti giovani non hanno una sede come una settimana fa. Chiaramente l'abbiamo anche già annunciato sui giornali, però da questi tre giorni di occupazione che seppur pochi hanno dimostrato che quello di un luogo in centro città ha perso a tutti, ai giovani studenti, alle loro esperienze, ai loro progetti. Quindi è un'esigenza che questa città ha perché in tre giorni le sede di via Mariani sono passate veramente decine e decine di persone. E quindi nelle prossime settimane sicuramente ci sarà un'altra occupazione. Quindi non solamente nuove azioni di manifestazione ma pensate già proprio a una nuova occupazione? Sì, sì, a questo punto, dato che si è dimostrato essere un bisogno, una cosa di cui non si può fare a meno, ci sentiamo di annunciare già nuove occupazioni. Senti, da parte delle istituzioni avete avuto dei contatti? Il comune, l'assessore Morigi o qualcun altro al posto suo si è fatto sentire? C'è stato un tentativo di un nuovo dialogo? Oppure al momento la situazione è un po' ferma? No, siamo rimasti proprio al giorno precedente all'ottore che eravamo andati con l'assessore Morigi in provincia a chiedere se c'erano luoghi disponibili, stanze spitte in cui poter comunque darci in concessione. Dalla provincia c'era stata risposta negativa perché anche i pochi luoghi che hanno li vogliono rivendere. Naturalmente anche qui bisogna avere una riflessione sul fatto che il fatto di stabilità, le politiche di austerità hanno portato a rivendere tutto il patrimonio pubblico anche degli enti locali. Infatti la provincia ha due locali sfitti adesso ma non ce li può dare perché hanno un bando e naturalmente non comprava nessuno visto il tempo di crisi. Però comunque sì, l'assessore Morigi poi l'ultima volta ci aveva consigliato di lasciare l'occupazione e poi non ci siamo più sentiti. Il vostro umore dopo questa esperienza comunque è tutto sommato abbastanza positivo? Sì, diciamo che per noi questa esperienza seppur breve è stata vincente da tutti i punti di vista nel senso che siamo riusciti a fare meglio della città, siamo riusciti a costruire anche se solo in tre giorni un mucchio di ragazzi, di studenti si sono avvicinati all'esperienza della selva e adesso siamo tanti, determinati e più compatti di prima nel portare avanti questo percorso. Quindi per noi la valutazione è assolutamente positiva. Se ci fosse appunto un privato che ha un luogo e ve lo vuole dare in concessione per voi potrebbe essere una strada possibile? Sì, sì certo, ma in realtà anche su questo posto che inizialmente avevamo occupato noi avevamo detto subito se vogliamo arrivare a un accordo, un affitto simbolico noi non abbiamo problemi. Il problema è che naturalmente dato che tutte le nostre attività si basano sull'autogestione, sull'autofinanziamento, di soldi per pagare affitti ne abbiamo veramente pochi quindi se c'è comunque qualche privato volenteroso noi siamo i primi ad accogliere la braccia a piedi. Sì, il problema quindi non sarebbe tanto l'affitto ma quanto anche le utenze per esempio. Per voi sarebbe anche quello un possibile problema? Sì, vabbè, sulle utenze diciamo che comunque anche in un posto occupato te le paghi da solo quindi i soldi per quelle si trovano. Però sì, se le sommiamo anche l'affitto, dato che facciamo in maniera tutto autofinanziato, è dura.